Il presidente russo Putin ha dichiarato una giornata di lutto per le vittime dell'attentato di venerdì sera a Mosca. Secondo le autorità i morti sono più di 130, più di 120 sono le persone ricoverate, molte versano in condizioni gravi. L'attentato è stato rivendicato dal sedicente Stato islamico. Sin dalle prime ore di sabato i residenti di Mosca hanno fatto la fila per donare il sangue ai feriti. Putin ha fatto sapere che quattro aggressori sono stati arrestati e le autorità russe hanno fermato in totale 11 persone che sarebbero coinvolte nell'attacco. La Russia vede un legame tra gli attentatori e l'Ucraina, ma Kiev ha già negato ogni coinvolgimento. Grazie a tutti.